Io direi che comunque emerge, si conferma anche da questa nostra chiacchierata, si conferma una volta in più che tra le nostre tante lacune di cittadini c'è anche l'inconsapevolezza dell'importanza delle nostre informazioni personali e quindi ci manca proprio la cultura della tutela delle informazioni personali, lei cosa ne pensa? Assolutamente sì, non posso che condividere questa affermazione. Per quale motivo? Mi permetto di fare un piccolo esempio. Immaginiamoci questo nel mondo dei social media e di internet. Immaginiamoci che di punto in bianco qualcuno abbia inventato l'automobile e che tutti noi possiamo averla gratuitamente e soprattutto senza dover prima acquisire una patente, la licenza di guida. La si può utilizzare così liberamente in pratica? Che cosa succederebbe secondo lei? Dal mio punto di vista succederebbe una strage. Tutti quanti guideremmo come capita perché nessuno ci ha insegnato a farlo, nessuno ha dato delle regole per farlo e conseguentemente tutti quanti andremo a danneggiare noi stessi per primi oltre che gli altri. Lo stesso dal mio punto di vista è avvenuto e sta avvenendo con il mondo dei media digitali, dei social media, quindi i vari Facebook, Twitter, Google, ai quali non siamo stati, nei confronti dei quali non siamo stati istruiti a relazionarci e i quali stanno raccogliendo una mole immane gigantesca di dati personali nei nostri confronti. Ecco, perché allora la domanda proprio, in questo caso viene proprio spontanea, perché società più o meno note e più o meno occulte fanno questo immane lavoro di raccolta dei nostri dati personali. Per un motivo semplicissimo riprendo quello che diceva prima, noi non siamo, per questa società, noi non siamo degli utenti, dei clienti, noi siamo il loro prodotto, quello che loro vendono e sulle nostre informazioni loro monetizzano. Faccio anche qui un esempio perché la gente purtroppo in materia di dati personali solo adesso sta iniziando a prendere coscienza della loro importanza e del loro utilizzo. TomTom, il famosissimo navigatore che tutti quanti abbiamo utilizzato che tutti quanti avremmo voluto quando in vacanza in una città sconosciuta ci siamo persi nelle vie cittadine. TomTom, cosa ha fatto in Olanda? E questa cosa qui è nota. Nel 2016, dopo aver tracciato gli utenti, verificando, con il loro consenso ci mancherebbe, verificando dove andavano, a che velocità andavano, in che giorni della settimana andavano in certi luoghi piuttosto che in altri, cosa ha fatto? È andata dalla polizia olandese nel 2016 dicendo, cara polizia, io ho le informazioni di tutti quanti i cittadini olandesi che utilizzano la mia applicazione, il mio navigatore e ti so dire esattamente in quali vie superano tutti sempre il limite di velocità. Se mi paghi, sai cosa fartene? Cosa pensiamo che abbiano fatto? La polizia e quindi il governo olandese ha comprato questi dati, pagandoli profumatamente, e ha installato gli autovelox esattamente nelle vie in cui TomTom diceva che gli utenti, gli automobilisti, generalmente superavano il limite. Ma la possiamo considerare che questa è un'operazione illegale? Non è un'operazione illegale per un motivo molto semplice. Non è illegale? Non è un'operazione illegale per un motivo molto semplice. Le famose informative sulla privacy, i banner giganti che ci compaiono quando entriamo in un sito, quanti di noi li hanno letti almeno una volta? Nessuno. Nessuno. Siamo tutti quanti abituati, proprio per quella mancanza di cultura di cui parlavamo prima, siamo tutti abituati ad accettare in maniera acritica, accettare in maniera acritica tutto quello che ci viene sottoposto, pur di iniziare ad utilizzare un prodotto diciamo sì sì, clic clic avanti, ok accetto accetto. All'interno delle informative privacy di TomTom è prevista come in quasi tutti, come quasi tutti i servizi che condividono dati, condividono informazioni, è prevista la possibilità di condivisione di queste informazioni. Sempre tornando a questo esempio, pensiamo TomTom come condivideva queste informazioni inizialmente? In base a quell'informazione informativa, ci diceva quali strade erano più trafficate, perché gli utenti che lo stavano usando si trovavano fermi in una strada a 30 all'ora, quando invece il limite di sarebbe 50, quindi presupponeva ci fosse traffico. Condivideva queste informazioni in maniera ovviamente anonima con gli altri utenti che avevano l'applicazione installata e suggeriva ti consiglio di uscire alla prossima, perché qui tra 100 metri ci sarà un ingorgo. Questo era inizialmente l'utilizzo pensato e a cui gli utenti credevano, per cui gli utenti credevano valesse la pena pagare. Ovvio poi che TomTom ha trovato, come tante altre società, ha trovato un'altra maniera per monetizzare su questi dati, non solo dagli abbonamenti, ma addirittura vendendoli e cedendoli allo stesso governo, alla stessa polizia. Chiarissimo, mi viene anche qui una domanda, ma quando ci sono informative sulla privacy eccetera, c'è la possibilità di dire accetto oppure non accetto, ma se non accetto non mi fanno accedere a quel servizio e quindi in questo caso come si fa? Non a rinunciare al servizio. Esattamente, è questa l'alternativa di fronte a cui siamo posti ormai nel 2019 e nell'era del web. O accetti in maniera acritica tutto quanto e non ti devi porre problemi, perché ti devi fidare di me, io sono Google, cosa vuoi che faccia? Oppure in alternativa rinunci c'è il servizio. Oggigiorno però ci rendiamo conto che è impossibile rinunciare tutti i servizi presenti sul web. Se io non accetto l'informativa sulla privacy della mia banca non ho possibilità neppure di incassare il mio stipendio, non ho pure la possibilità di incassare un assegno, la pensione, pensiamo ad un anziano. Ed è proprio per questo che tornando alla domanda che mi aveva fatto prima, il perché c'è questa immane mole di dati, perché viene raccolta, cosa se ne fanno? Per monetizzare e per dare la possibilità di incrociare questi dati, perché facevo prima l'esempio della TomTom, quello è un esempio singolo di una città singola che utilizza i propri dati. La problematica sorge quando sono nate negli ultimi anni delle società specializzate nell'incrociare i dati. Un dato singolo, quello bancario, quello della TomTom, può essere un po' fine a se stesso, può avere quello scopo di cui abbiamo parlato prima, cederlo alla polizia per installare gli autovelox. Ma il problema è quando queste informazioni vengono trasferite a società che hanno come unico scopo quello di incrociarle e confrontarle con tutte le altre informazioni raccolte da altri servizi. Perciò penso alla banca, penso alle assicurazioni, penso appunto alla TomTom. Faccio un altro esempio che mi ha abbastanza sconvolto pensando agli Stati Uniti. Le banche condividono quotidianamente informazioni con le assicurazioni. Per farne cosa ci chiediamo? Quando dovrò rinnovare la mia RCA? E l'assicurazione, quindi l'assicurazione quella per gli incidenti durante la circolazione stradale in macchina, e la mia assicurazione scoprirà che io sono solito comprare due bottiglie di rum a settimana, perché con la carta di credito vado al supermercato e la compro. Pensiamo che mi terranno il premio basso, oppure mi considereranno una sorta di arcolista e quindi probabilmente mi alzeranno il premio. Io non ho mai autorizzato espressamente questo tipo di trasferimento di dati, però le informative della privacy lo prevedono. Le informative della privacy lo prevedono e noi non riusciremo mai ovviamente a capire o a identificare questi dati che vengono rintracciati, quindi in questo senso siamo alla merce di queste grosse società, delle grandi organizzazioni in pratica. Assolutamente sì, è una delle organizzazioni che ha più dati personali, citavamo prima il direttore della CIA, è proprio Facebook. Facebook adesso, perché crediamo che Facebook abbia deciso oggi di buttarsi anche nel mondo della finanza, delle banche? C'è la possibilità di fare dei piccoli, dei micropagamenti su Facebook, proprio per questo motivo, per raccogliere più dati personali possibili su ciascuno di noi.